Avatar Control è l'app di queste prese smart che però chi ha l'app Smart Life riconoscerà una certa analogia nella grafica dell'applicazione che sebbene sia marchiata diversamente e quindi qualcosa possa cambiare di fatto il motore che c'è dietro è sempre lo stesso ed è per questo che io l'ho configurata direttamente dentro Smart Life dove ho già tutti gli altri dispositivi connessi della casa ho aggiunto questa prese smart che tramite l'applicazione posso andare a controllare rapidamente e vi assicuro che risponde molto bene ai comandi esattamente come tutti i dispositivi della Tuya che è poi l'azienda produttrice di questi prodotti countdown per spegnimento automatico 2.8 di ore oppure di minuti, il timer oppure accensione spegnimento che si può fare anche da qua sopra nell'angolino abbiamo le integrazioni con Alexa, Google Assistant e quest'altro che francamente non conosco notifica offline, utilissima per avere notizie che la rete o quello che è collegato non è disponibile perché manca la corrente a monte cosa che molte app purtroppo non hanno ancora e quindi ottimo che ci sia e poi naturalmente la possibilità di integrarlo con tutto quello che è l'ecosistema, aggiungere tasti rapidi e creare automazioni di ogni genere basate sul... mi dice che non si può configurare nulla di nuovo proviamo a vedere se invece creandolo da qua da un'altra da un'altra parte della parte smart se vado ad aggiungere se posso coinvolgerla oppure no, facciamo che quando il dispositivo questa presa cambia e quindi che ne so viene spento inviami una notifica nel centro messaggi dell'applicazione che mi dica una qualunque cosa automatizzazione creata iniziare ad utilizzare? sì e quindi vado ad accendere intanto Alexa mi notifica che c'è una nuova eccola qua una nuova automazione vado ad accenderla quindi in teoria se vado a spegnerla dovrebbe notificarmi qualcosa eccolo qua quindi sì si può creare un'automazione ovviamente poi anche quelle di altra natura basate magari sulla geolocalizzazione il problema della geolocalizzazione che considera un solo dispositivo e non una serie quindi se si ha più smartphone una famiglia di più persone che possono essere dentro o fuori casa l'insieme di tutti questi non li coordina non li gestisce quindi è un po' difettoso da questo punto di vista l'ho già segnalato smart life ma pare che non gliene freghi più di tanto perché nulla è cambiato fatto sta che è tutto questo per dire che queste prese così piccoline di un brand per lo più sconosciuto in realtà si integrano in un ecosistema immenso molto noto quello di tu io dei smart life e che fa sicuramente moltissimo per tantissime persone un prodotto compatto che non occupa tanto spazio sulle ciabatte tiene abbastanza un po' più sporgente lo è non ci si può nascondere dietro questo però è tra le più compatte che abbia conosciuto di di prese smart e quindi secondo me è un prodotto che vale la pena prendere in considerazione proprio perché nell'insieme delle dimensioni molto compatte il prezzo sotto i 10 euro ha presa la compatibilità con google e alexa e le integrazioni che si possono andare a fare secondo me sono un punto di forza considerevole e quindi da tenere in considerazione per magari un regalo immagino un compleanno qualcosa del genere che potrebbe essere interessante per qualcuno